Beh, io direi di sì, perché adesso vi è in atto una dinamica completamente diversa, nel senso che quando si va al supermercato si va opportunamente sanificati e anche protetti. Quindi il pranzo della domenica purtroppo è un pranzo che avviene fra diverse generazioni e questa è una bellissima cosa della nostra cultura e della cultura di tanti altri paesi, perché questo non è un problema certo solo dell'Italia, ma siccome ieri si sono riaperte le scuole è ovvio che c'è da aspettarsi una circolazione virale un po' più vivace nei bambini e nei ragazzi e quindi il rischio è che questi bambini possano portare a casa l'infezione ed infettare delle persone che purtroppo a volte fanno la forma grave.